Cinque cittadini pakistani sono stati fermati nel torinese con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I carabinieri hanno scoperto un appartamento che gli indagati avrebbero usato come base operativa. All'interno c'erano 25 persone in attesa di essere accompagnate in Spagna e Francia. Erano stipate in una sola stanza in precarie condizioni igienico-sanitarie costretti a mangiare e dormire per terra.